Al via le domande per il bonus colfe badanti per il lavoro domestico, varato dal governo con un decreto legge lo scorso 26 febbraio. La misura è finanziata con 137 milioni dal 2024 al 2028. Si tratta di un esonero totale, fino a 3.000 euro annui, per assumere collaboratori che assistono anziani che hanno almeno 80 anni, non sono autosufficienti e sono titolari di indennità di accompagnamento. La decontribuzione è al 100% e riguarda sia i versamenti contributivi sia quelli assicurativi. Ad accedere al bonus possono però solo i nuclei familiari con ISEE in corso di validità fino a 6.000 euro. Il bonus è biennale e si può richiedere fino al 31 dicembre 2025. È slittato invece oggi il termine per chiedere il nuovo bonus per genitori separati, divorziati e non conviventi. La misura è finalizzata a garantire un contributo ai genitori in stato di bisogno con un reddito non superiore a 8.174 euro. È corrisposto in un'unica soluzione in misura pari all'importo non versato dell'assegno di mantenimento e fino a concorrenza di 800 euro mensili. Il contributo spetta per un massimo di 12 mensilità.